Ciao ragazze, benvenuti o bentornati in questo nuovo video Fa schifo la mia faccia in questo video Sì, iniziamo alla grande Allora, siamo in partenza per Salerno Farò questo weekend con la mia famiglia Mia sorella, mia zia Narita, non sono mai stata a Salerno Riprenderò tutto, non vedo l'ora di farvi vedere tutto quanto Io l'ho detto già che sto con la macchinetta fotografica in mano H24 che mi dovranno sopportare questi due giorni di vlog Comunque, sono le quattro Mia zia Narita mi sta passando a prendere Perché adesso andrò a casa sua, staremo un po' a casa sua Poi mio papà ci passa a prendere a casa sua Adesso andiamo a casa di mia sorella che abita un pochino più lontano da me Però sta più verso Salerno lei che noi Poi andremo a casa di mia sorella e partiremo tutti insieme Vabbè, ve l'ho detta un po' così ma i dettagli poi li vedrete in questo vlog Allora, devo prepararmi, nel senso devo mettermi il giubbotto Sciarpa cappello, devo ricontrollare, sono preso tutto Già stanno scrivendo sul gruppo Oggi sono polemica, poi tra tutte le altre cose Io non sono una ragazza polemica ma quando mi alzo e sono polemica faccio polemica per ogni cosa Tipo io ho scritto stamattina Guardate che sto facendo un vlog, vi riprenderò per due giorni Fatevelo andare a bene, la mia macchinetta fotografica Adesso ho scritto sentite, io mi metto le cuffiette fino a Salerno E ci vediamo direttamente a Salerno e non me voglio sentire Ho creato questo gruppo e ho creato l'inferno Perché da stamattina è già che stiamo litigando e non siamo neanche partiti Comunque mi devo portare valigia, cardigan, giubbotto me lo devo mettere Devo andare a prendere la sciarpa, devo chiudere casa Questa qui penso che ci ho messo tutto E basta, mi vesto, vediamo un po' cosa dice mia zia Mia zia mi ha passato a prendere Siamo da mia zia, la situazione sta degenerando Mia zia, ho preso la mia zia e ho detto Sare che cacchio ti sei portata, ha pesato tantissimo E noi sul gruppo stiamo discutendo sul fatto di quanto fa freddo e cosa portarci E mio padre commenta così Oh regà, ma sapete che andate a Salerno e non andate ancora mai ieri A San Moritz, a Belluno, a Bolzano A Salerno ci sarà il mare, non è ci saranno le montagne alte Ciao Lola, da quanti anni che non ci vediamo Com'è la mia valigia? Quella è la mia valigia quella? No, la mia valigia com'è? E' bella Pesante E' pesantissima, ma che ci sei messo il letto? E cosa è messo? Di dopo sci che hai messo, di sci che ci hai messo? Le cose che mi servono, i trucchi, la piastra, gli outfit, i vestiti Ma come, devono col pigiama parte, dobbiamo fare che tanto l'ambo se li vestissi bene Perché farebbe un brutto tempo e tutto qua Siete le comune? E' la roba invernale ti occupa più spazio in valigia C'è pesantissima, cioè, senti la mia Senti, qua, senti la mia Carina Cioè, è in confronto Tanto, tanto in hotel c'è il coso, sì Eh, sì, dai In hotel c'è il ascensore Senti, io sono dove ho fatto il hotel Ma te l'ho raccontato chi è in questo hotel, da sola Una sera torno, erano le due di notte, due tre di notte E c'è la carta Due tre di notte? Sì, dove ho fatto la sala, erano la sola E mi stavano le due tre di notte E stava, vabbè, c'era la carta Che fai così E ti apri la camera Facevo e non apriva Mi doveva tutto rosso Ho rifatto due, tre, quattro volte, niente Non apriva A un certo punto ti abbiamo fatto in hall Cioè, perché sta cosa non mi apre Incontro Vedete? Non mi stavano No, no Incontro sempre nello stesso corridoio Ma altre persone che c'avano problemi ad aprire Però ho detto, vabbè Vado in ascensore E altri due signori c'erano Io gli ditevo, scusate, ma che non riuscite ad aprire la camera? No, veramente No, guarda, neanche io sicuramente non siamo soli Vado e no C'era la fila Perché nessuno riusciva ad aprire la fila Io ho attaccato l'andellino Che carino Lo sai? Ti avevo triste Non mi stavano triste Ovviamente andiamo sbagliati Mi torniamo sbagliati Non mi rogato anziato No, dai Ai fiori Magari i wolf ci fa la grazia Ma bisognava dire Giù che tempo faceva Tu guarda questa mattina C'è il sole Voglio dire se ci sta ancora il sole là Comunque hanno detto sui due Che siamo identiche Davvero? Sì Ma non hanno visto che come li disci come i tuoi Ma hanno detto Voi è vero Siete proprio sosia Quindi che mi offri? Senti io ci facciamo un apre Uno spritz Madonna No uno spritz No, sì Ma non mi piace lo spritz Allora facciamo la coca cola Ma a me non ce l'ho Il succo di frutta Non ce l'ho Una limonata Non mi piace Allora siamo partiti Cioè siamo partiti Cioè siamo partiti Sì 16 e 49 16 e 49 partenza Arrivo Arrivato 9 Ok Perfetto Ci vogliono almeno 3 ore e mezza Vieni conto che Tu è brutto Vabbè Facciamo la vostra strada Allora si paga 12 euro Per la via del mare non si paga niente Non si paga niente Se ce le so porti Wow Stiamo a casa di mia sorella Oh Ma di questo ne parla Perché sei riuscita Stiamo partendo E io adesso sono comoda davanti Che detto Ancora presto Ancora presto Sì Sì è presto Ancora dobbiamo cimentarci in questo viaggio Lunghissimo E niente Ci sentiamo direttamente a Salerno Quando io e Zia scopriremo la stanza del nostro hotel Mia sorella che non so cosa sta portando Siamo qua Siamo quasi arrivati Ha piovuto per tutto il tempo Spero siamo quasi arrivati Salerno 13 minuti E andiamo in albergo A posare le cose E poi andiamo a cenare Che c'ho una fame Che mi mangio pure il cane Allo spiedo No il cane no Il cane no Il cane non si tocca Allora spero Che mi compro La fame Il tasto La fame Ma tu cosa dici pa? Con un viaggio con noi Come sono state queste 4 ore Ho il copyright Ma mi si blocca tutto il video Cazzo ho fatto danni Ok Dicevo Le spiego pure la luce Come è stato questo viaggio con noi? Eh Diciamo un po' stressante Però è andato via Perché sopportate le persone Mamma mia Tre femmine poi Tre femmine Ce ne vuole Ha piovuto Ha piovuto Non l'ha mai smesso Non l'ha mai smesso Non l'ha mai smesso C'è niente Ha piovuto disturbato Non l'ha mai smesso Ci sono stati anche Dei tuoni temporali E lampi Qualcuno pensava Che dobbiamo fare le foto Qualcuno è costretta Dicevo che sta la fai fuoco Veramente lampa Vabbè Ha piovuto sempre Ha piovuto sempre E adesso Non piove Che Siamo dentro In galleria Dentro la galleria Però Diciamo che Ecco E' molto piove Guarda E' 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 Perché Sono in automatico Questo Un po' di Intelligente Sono in automatico Adesso spalma anche un po' di vetro Vabbè Menù della serata Menù della serata Bufala Di battipaglia Ma la Se come hai visto Hai capito quante persone Sevo Non si preoccupa Due chili L'ho preso Due chili Poi Dei mostrare Di bufala Di battipaglia Un kilo e mezzo Di porchetta Di arriccia Un filone Un filone Un filone pane di croccantino di genzano e un crociottino fino al mondo per mia nipote, ho pensato a mia nipote giustamente, e poi ci sono altre codiglionne, poi ci sono altre codiglionne a sorpresa ok, dopo le facciamo vedere però, ci sono delle sorprese che adesso non si possono smelare va bene, ci vediamo alla cena, siamo arrivati, siamo in Nutella, adesso facciamo il check-in qual'è Razzi, te la ricordi? 4 e 12, quindi di qua, oddio mia sorella sta qui, ora siamo pure vicine ciao, hai passato a zia Sara? non va via, non va via zia Sara, vai in camera un attimo, ora torna va, 4 e 12 va bene, va bene io sono entrata, voi? oddio si? ho capito vai, vieni ma è entrata Francesca, la c'è riuscita? riprendiamo il momento ho rischiato anche di dormire in macchina è carina no vabbè ma la doccia? che doccia stupenda wow come si accende la luce? wow dove si accende? aspetta, si fermate che sta? forse fuori ah no si eccola che doccia stupenda ma è bellissima fermi luce si a quali possiamo fare i selfie? stupenda allora dove sta Francesca? mogli bussiamo si ma del tuo caso è una sobriata aspetta non andare via che noi non abbiamo venito forse con la macchina perchè ti c'è ampio col seggiolino quante è? va vede? è un bel divano quello che c'è stato c'è pure il divano c'è hai visto questo? ma è bellissima tu ce l'hai? oh specchio grande che ti fai che ti fai? ah non lo so non lo so ma abbiamo la doccia più grossa noi ma adesso è andata proprio meglio addirittura col divano così si è monofa cioè così ci puoi anche ballare dentro questa camera c'è una sala non è una camera non l'ho visto fuori no a noi non è a noi? non è altro noi non l'abbiamo visto no noi siamo dall'altra parte forse noi si a lui è convista perchè io ho fatto la prospesa convista c'è ma è grandissima Lili no vieni qua dentro vieni dentro Lili brava vai da Luisa vai 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 da Luisa ciao ciao wow che bella non vedo che piove non vedo che piove guardate chi c'è il mio canale youtube finalmente dopo mesi Luisa salve 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 si è pure figa non so dove deve andare dove devo andare comunque c'è di madrile perchè l'abbiamo così tasta a casa aspettacce qua già preparata tutta la tavola qua abbiamo la porchetta i tramezzini queste sono le sfiziosità di cui parlava mio papà la porchetta senti noi sì noi io e te prosciutto questa è la tavola per come apparecchiato bella Luisa wow wow sei proprio top che ti pensi cioè fai le cose in grande diretti dei pomodorini sei dovuto fare oggi pomeriggio? sei sempre saurita mentre ci aspettavi imperterrita in attesa in attesa mi voglio dirtelo sì pure i piatti mi ha fatto trovare anche che bello ma solo i spray ci dorsà ci dorsà ci dorsà ci dorsà si a cosa ci dici di questa cena? buona molto buona troppa roba troppa roba in effetti bastava giusto ti piace questo nonno? ti piace? il dolcetto lui qua sta per una fetta degli dolcetto sentiamo troppa roba troppa roba troppa roba sei la mia figlioccia dai 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 eeeh senti qua c'è qualcuno che è geloso io sto al concerto se non guarda mai una canzone quindi pa cosa ci dici di questa cena che l'hai commentata in macchina? cosa ci dici di questa cena? la cena è bellissima la cena non sto bene ma ci servisci la facevo prima la portava al ristorante mi costava di meno madonna come sei esagerato mi costava di meno mi costava di meno sono esagerato? davvero davvero ho fatto io la fratisa però qui scusi brava è bravo 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 hanno fatto anche i regali di natale Il primo sopra è di ambra. Poi c'è uno di Francesca e Mouzman. Sono tre. È di ambra, è di ambra. Uno è di ambra. Ma se vedo prima di loro mi spoilero? Sì. Cacchio. Guarda, vado a facciare meglio. Questa qua è mini. Che bella. La pallina, vedi? Che bella che è. L'anno prossimo è te, bravo. No, no, questo non è te. Adesso mi sono attaccata sull'albero di Natale. Vocate l'albero di Natale. Ma no, questo non è tu. È troppo piccolo. Qui c'è un bello grande grande a casa. Di Francesca. Vogliamo farlo vedere la tua sala? Va bene. Che bella. Buon Natale, ricordo. Eccolo, questa è quella di ambra. Ma che bella quella di ambra. Con mini. Che bella. Grazie, grazie, grazie. Comunque tuttosommato è carina, eh. Poi questa è una pappente quasi quasi. Fa vedere? C'è tutta è marita, no? No. Ah, carina. Carina però, sì, bella. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupi proprio. Ma che prego regalo di Natale. Mi sa anche l'ultimo. Ma sto scherzando. Eh, ma lo dò ancora. Ma io non voglio niente. Sto scherzando. E' buona? E' buona? Sì. E' buona. E' buona. Un discotto dolce. Un po' io niente. Un po' di spigotto. Mi senti in spigotto. Wow. Questa non riesco ad aprire. Sì. Aprivo? Sì. Questo è un cazzo da fuori. Oh, che è la bomboliera da avere il matrimonio quella? Oh, che bella. No, no, è una bomboliera. Che bella. Quella è tua. Quella è tua. Quella è tua. Il tuo personale c'è scritto il nome è tuo. Il nome è Ambra. Il nome è Ambra. Il nome è Ambra. Io mi chiamo Ambra. A te niente regali va. A te niente regali va. Senza regali. Se sei otto persone un scemo sono io senza regali. E tu. Ma dopo che vuoi se veniremo a Canada? Eh. Noi Adai c'è sto per nessuno. A Natale voi. A Natale voi. Mamma. Oh, la mia. Oh, la mia. Dove è tornare in albergo. Dopo il cenato a Diana. Ci laviamo, ci strucchiamo e andiamo a dormire. Facciamo le foto Instagram. Perché poi domani sarà un'altra giornata piena. Dovevo ripetarci. Anche il son tipo quasi metà nostro. Lo dai. Ah, ah. E poi non siamo state intelligenti che ci potiamo organizzare. Diciamo 2 quarti di intenzione. Invece abbiamo solo 2 di ogni cosa. Poi devi vedere tu quelle ciai di l'estero c'è. Che c'è di scaldamento? No, sono caldo I primi ammini domani sono Queste avvantuate E stupo Per avantiare la pizza e andare a salare Finalmente struccata Sono messa anche il mio pigiamino Della serata Comunque questa stanza è molto molto carina Cioè lì c'è l'ingresso Questa è tutta la stanza Sì vabbè Guardate la differenza tra le cose di mia zia Che è un tipo super ordinata e la mia Sono sempre la solita Madonna ma quanto sei figa così Con questa Grandissima doccia bellissima Poi c'è la luce pazzesca Che è quella che in Puglia C'è la stessa luce Le foto venivano benissimo Quindi domani quando mi truccherò un pochino Sarà di top Sì anche ti fa la skin care notturna Praticamente è mezzanotte Adesso mi metto un po' a sistemare Le mie cose perché vi conosco Adesso andiamo a dormire Perché domani dobbiamo svegliarci E sarà presto Vi auguro la buonanotte Ci vediamo domani mattina Pagliatrice 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 Grazie a tutti